la nave russa ci prova all'attacco in pessima posizione per il cannoneggiamento ci prova a girare il canco ma forse colpisce l'isola vediamo se la nave russa riuscirà a sventare che schianta non lo so, non si capisce la nostra cosa che la decolpizza talmente no, no, attenzione, attenzione non ho visto il colpire manca qualche colpo passando troppo alto colpisce posso spararmi vuoi aiutare il riprendere l'atena? posso vedo chi riesco ad abbordare l'atena è un'atena giro l'atena è un'atena giro l'atena è un'atena giro in termini di worth di soldi sarebbe meglio aiutare beh, noi siamo iniziali in generale in generale in generale l'atena è un'atena giro in generale l'atena è un'atena giro in generale in generale forse si sta forse si schiantano si schiantano contro un'isola l'atena è un'atena giro è un'atena giro l'atena giro l'atena è un'atena giro l'atena è un'atena giro la felice l'atena giro ora capisco perché sto lasciando si è fatto i mano che era il polgo sta prendi le bandiera che le sto separando sto mettendo le ciline sotto l'alpione Ah ok va bene, ma qua c'è un po' di lanciabili che sono posti Sto sparando un po' di artificio Sbarano Sbarano Che era messo ai ponti Sì, ci sparano Sono stato ucciso È partito, è giusto Sweet Morti Bror Glor Bror 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 Beh, altra non è diritto Eh no, c'è un po' di guardare Provo da guardarli, no, senti Sto perdonando questo lato Sto perdonando questo lato Sto perdonando questo lato Si, si L'hanno citato Pazzo Sto facendo il problema di commissione Di favore per l'arra, si Uno di loro è morto Eh, l'ho tornato da loro? L'albero dovrebbe andarli giù Sì, 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 vabbè Stanno tenendo l'albero Eh, l'albero, l'albero Certo, proprio se riesco a fermarli per ripararli Eh, stanno colpendo Forse l'ho ucciso uno, con l'esplosivo Però non lo so Prego, non avrei un dato di farlo Un po' giù l'ancora Vai, un po' di tiro con il canone sinistra Arrivo Eh, l'ho ucciso E non ce n'è un secondo Uh, anche questi hanno un sacco di risorse Sparate dietro, sparate dietro Vole sta sacchiando per Per socare di sopravvivere Mi hanno ucciso Non so come ha fatto, non ho neanche visto l'arma Mi hanno ucciso un sacco di risorse Sargente, avremmo portato le inchinite Sparare dietro la manetta Rimpondano Una rientrata Adesso Stiamo lentamente perdendo il giro Ok, adesso ci... No, non so che l'acqua Sì, sì Mi sono in 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 Un po' di... Ok, ok Un po' di riparano l'albero Ok Ok Entra, entra No No Merda, no, cazzo Per sé, chiara Non possono muoversi l'ho ucciso uno non lo riescono a tenerlo riesce a riscaldarlo abbastanza a fondo il mio sac di Udai a fight dai che si può ancora di più dai c'è tutto l'incanto la gente non sono fondato bene dobbiamo trovare l'altra nave se riusciamo a trovarla è salita sulla coffa qua se è uscita ok parlo io è vero che è la nave pt quindi non li farei ancora